Musica Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi utilizzeremo un po' di stencil e di maschere della Tommy Design e queste basi già pronte della linea Anitas che se vi ricordate le avevate viste a un video alla fine anno o ai primi dell'anno e sono molto comode nel caso dovete fare dei lavori veloci vi servono delle basi bianche e lì avete già la busta e il cartoncino e il rapporto qualità prezzo ve l'avevo già detto anche nel video è veramente ottimale rispetto a utilizzare buste e cartoncini diciamo che comunque l'idea di questo video nasceva dal fatto di mostrarvi come era stata concepita l'idea di quelli che sono degli stencil con delle forme geometriche quindi ovali, tondi, cuori, quadrati da utilizzare appunto con le maschere le maschere sono sempre un po' particolari da usare e Tommaso ha avuto appunto questa idea di andare a ricreare queste forme dove attaccando le maschere come vi farò vedere possono essere utilizzate in vari modi e si va a ricreare anche già una sorta di cornice quindi noi andiamo a utilizzare una maschera e li realizziamo contemporaneamente anche la cornice l'idea è molto carina io infatti all'inizio non capivo a cosa servivano e non li avrei mai comprati se non li vedevo utilizzare nel video il cuore, il quadrato perché non sapevo cosa farmene ho capito dopo a cosa servivano e quindi li ho presi quindi in questo caso io ho scelto alcune forme ho scelto alcune maschere giusto un po' per mostrarvi la differenza e sono andata di distress e così ho anche colto l'occasione per usare le spugnette nuove che avevo da una vita da un'oldi oltre un anno fa le avevo trovate in offerta su Amazon e quindi le avevo acquistate ne ho 60 e posso utilizzarle una per tampone infatti sotto la scatolina dei distress ho messo il velcro in modo che a ogni distress li metto il suo tampone ed è un problema in meno andarlo a cercare in una scatola piena di colori dove si contaminano sempre e risulta sempre un casino quindi in questo caso vedete che sono andata a ritagliare tutte le basi ma la cosa carina è che comunque non avete solo quello che è la sorta di cornice ma vi rimane comunque anche la forma da usare come maschera quindi il cuore il cerchio può sempre servire per qualche altro lavoro quindi si tiene sempre tutto assolutamente come vedete ho deciso quale maschera utilizzare una volta ritagliata e semplicemente io adesso le sto tagliando tutte per una questione di comodità anche perché comunque ne uso più di una in alcuni casi quindi era giusto per andare avanti a tagliare come vedete come vedete una volta individuato il cartoncino adatto io vado a decidere come posizionare le mie maschere quindi come voglio l'effetto e semplicemente vado a fermare la maschera sullo stencil fatto come cornice con la carta nastro e dopo lo giro al contrario logicamente perché la carta nastro serve solo per fermare la maschera mentre che noi andiamo comunque a lavorare sulla nostra card quindi fatto questo sono andata ulteriormente a fissare comunque il tutto come vedete sto facendo quello che avevo detto per ogni colore una sua spugnetta in questo modo mi si toglie il problema io ho scelto di usare dei vari rosa e in questo caso non vado di rotazione perché comunque lo stencil è veramente molto fine e essendo comunque dei colori che si ammalgano molto bene sono andata più che altro a tamponarlo perché se andavo a roteare mi rimaneva troppo libero rischiavo di andare a contaminare il lavoro quindi sono andata a creare appunto tutto il lavoro cercando di tamponare e alla fine per cercare di uniformare per non avere un taglio proprio troppo netto ho utilizzato il colore più chiaro un po' come base per andare a togliere lo stacco e come vedete l'effetto comunque è molto carino perché voi avete utilizzato la maschera e nel frattempo avete creato anche la cornice in questo modo avete già una card bella fatta e finite io sono andata semplicemente con il vintage photo ho messo sono andata a sporcare semplicemente la parte esterna gli mettiamo un sentiment due o tre decorazioni e già è già tutto fatto io ho messo anche il nastrino si può scegliere di andarlo a rifinire come si vuole quello che interessava a me in questo video dato che comunque mi era stato richiesto quando avevo fatto vedere questo discorso di come si dovevano usare le maschere nel video haul mi era stato chiesto da più persone di mostrarlo in un video non avevo la necessità di fare la card per regalarla a qualcuno però comunque ve l'avevo promesso e quando vi dico che cercherò di realizzare il video nelle tempistiche che posso cerco sempre di farlo e anche perché comunque era anche una curiosità mia di vedere effettivamente come usciva il risultato quindi semplicemente vedete la card gli ho messo questo sentiment che è comunque in questo caso a rilievo ma era perfetta anche una timbrata proprio una questione di velocizzare lavoro erano quelli della linea Betty che avevo trovato in super sconto e avevo acquistato e così già una card è fatta e vi assicuro che la fate in dieci minuti in questo caso invece ho deciso di andare a creare una difficoltà in più quindi ho messo uno step in più a questo sono andata a fare lo stesso discorso di prima quindi ho preso lo stencil gli ho attaccato la maschera vado nello stesso modo con i distress in questo caso vado a utilizzare un rosone azzurro che è un abbinamento come sempre è piaciuto moltissimo insieme al grigio io trovo che si stacchi molto e anche in questo caso avendo comunque uno stencil attaccato con della carta nastro vado più che altro a tamponare quindi lascio anche i tamponcini molto più bagnati in modo comunque da avere tanto inchiostro da scaricare e mi interessa in maniera relativa allo stacco perché vedete che quando poi è andata a togliere non è così vistoso come quando c'è ancora la maschera e lo stencil fatto questo lascio asciugare un attimino perché comunque avevo impregnato bene il tampone e dopo vado a posizionare il negativo cioè vado a posizionare diciamo quello che sarebbe il supporto della maschera che però è utilissima per poter utilizzare queste maschere come stencil io le utilizzo spesso in modo da poter andare a ridefinire alcuni dettagli della maschera con delle paste di qualsiasi tipo io in questo caso vado ad utilizzare il brillo gel possono essere comunque anche delle mousse e per farlo l'importante è ricordarvi sempre di non buttarle via queste parti non le ho mai buttate via dall'inizio perché le trovavo una genialata infatti sono comodissime come vedete facendo in questo modo voi andate a decorare quindi andate un po' a impreziosire il vostro lavoro con il brillo gel utilizzando di nuovo la vostra maschera come protagonista del tutto quindi gli diamo un attimino il tempo al brillo gel di asciugare che più o meno è un quarto d'ora intanto io sono andata subito a lavare lo stencil vi ricordo sempre di lavarlo immediatamente quando utilizzate comunque i brilli o altre tipologie di prodotti perché se rovinate lo stencil o la maschera dopo non li recuperate più quindi queste sono cose che io faccio subito appena finisco il lavoro come vedete ho aspettato un attimino ho fatto asciugare quello che era il mio brillo gel e sono andata a decorare la nostra card purtroppo per ritagliare sono andata un po' fuori in quadratura ma semplicemente ho utilizzato per decorarla dei washi tape che erano quelli che mi avete visto usare nel planet mic che ho fatto in collaborazione con la mia amica Ilya li avevo messi nel cassetto perché giustamente sono ordinatissima li vado subito a rimettere al suo posto però sono comodi perché comunque anche i washi soprattutto se ne avete tanti come anche nel mio caso sono utili si possono creare dei layout delle card andare a definire dei lavori in questo caso io ho creato la cornice per la mia card quindi fatto questo invece di andare è stata un'opzione invece di andare a sfumare il contorno io ho creato la cornice e semplicemente ho messo un sentime tanto in questo caso era un diecato piuttosto che una timbrata o una fustellata con il bioadesivo in modo comunque di dare ancora più tridimensionalità a tutto il lavoro e anche questi sono degli abbellimenti che non so se voi avete ancora a casa shop dalle vostre parti da me non c'è più io avevo preso comunque erano delle linee betti che dopo da casa shop non si trovava più quindi li sto utilizzando ne avevo prese diverse confezioni sono molto utili perché comunque hanno dei colori che erano adatti in questo caso al lavoro se andavano ad abbinare alla perfezione e li sto utilizzando perché comunque è un peccato erano tre linee diverse forse che io avevo anche quattro ma vi dico che da me ne uscivano veramente pochi era difficilissimo trovarli nell'ultimi periodi ero riuscita poi avevano tolto la linea betti non era più arrivata e va bene comunque come vi avevo promesso vi ho mostrato come si utilizzavano in combo le maschere con queste forme geometriche e l'effetto è molto carino voi lo potete realizzare anche con i colori che esce molto bene sempre tamponando con un pennello da stencil potete utilizzare anche altri inchiostri uso i distress perché uso sempre quelli però come vedete l'idea è molto carina perché voi avete questa maschera già incorniciata che vi finisce un po' tutta la card e semplicemente dopo dovete andare ad abbellire io in questo caso metto delle perline dei brillantini perché come al solito a me piacciono sempre i lavori molto pieni però può essere lasciata anche veramente molto semplice in questo caso ho semplicemente rifinito tratteggiando delle volte magari basta anche soltanto tirare delle linee e andate a creare dei piccoli dettagli che comunque rendono ancora visibilmente si fanno notare di più il vostro lavoro lo incorniciano in modo migliore e quindi mi sembrava un'idea carina io spero che queste due card vi siano piaciute e vi sia piaciuto il video che come promesso vi è fatto fatemi sapere nei commenti se anche voi avete acquistato questi prodotti se avete già provato a utilizzarli in questo modo ciao a tutti e alla prossima e alla prossima e alla prossima e alla prossima